Hello guys, welcome back to this channel! Giusto per non lasciarvi troppo digiunni di inglese, ho pensato a un'altra piccola cosina che potrebbe interessarvi. Quando ti devi... Dai, spremere le meningi per trovare una soluzione a qualcosa, presto e bene. Oh dai, dobbiamo spremerci, dobbiamo inventarci qualcosa. Ecco, questa roba qui in inglese si dice Come on, rock your brain! Anche al plurale talvolta, rock your brains. Per dire proprio dai, spremiti, su, pensiamo a qualcosa. All right? Easy peasy! Thank you very much for watching! L'inglese è sempre con te! Ci vediamo settimana prossima! Bye!